Voltiamo pagina adesso e andiamo a Scanzano Ionico per parlare delle recenti operazioni della direzione distrettuale antimafia. Con Luigi Di Lauro ricostruiamo la storia di quanto avvenuto negli ultimi anni. Vediamo. La presenza forte dello Stato è forse il segnale più importante per un territorio come quello di Scanzano Ionico negli ultimi vent'anni, letteralmente martoreato dai clan. Gruppi riconosciuti mafiosi da una serie di inchieste che in questo lembo di terra hanno fatto affari di ogni genere con il supporto delle famiglie criminali della Calabria e della Puglia. Il comune, sciolto per infiltrazioni mafiose, è affidato a tre commissari prefettizi. Traffico di droghe e armi, prostituzione, ma anche estorsioni e incendi. Decine e decine di delitti finora rimasti impuniti che per la direzione distrettuale antimafia sono quasi tutti riconducibili al clan Schettino, l'ex carabiniere in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Atti criminali scanditi con una sequenza temporale programmata con matematica precisione. Le ultime operazioni in ordine di tempo hanno rivelato anche gli interessi legati al turismo e al settore edile. Villaggi turistici e aziende prese di mira per aggiudicarsi appalti e servizi. Un giro d'affari importante che sicuramente tocca anche il mondo agricolo nei danni colpito duramente da furti e incendi. Ed è forse questo l'ultimo tassello di un mosaico criminale sotto la lente di ingrandimento della DDA di Potenza che presto potrebbe portare ad altri clamorosi sviluppi.